Puoi saperne un'altra? Il motore, liquidato, usciamo. No, usciamo. Andiamo. Non può essere vero. Non può essere vero. Abbiamo scoperto chi ce l'ha con noi. Dimmi che sto sognando. Ha un diametro enorme. Nessun uomo può far volare un simile colosso. Ma quell'astronave non l'hanno costruita gli uomini. Accidenti. Cosa aspettano a farsi vivi? Meglio un mostro con tre teste e dodici braccia di questo silenzio. Calma, sta sicuro che ci stanno osservando. E vedrai che... Ma che cosa credevi di fare? Non so, io... Seguitemi. Venite a bordo. Questo sembra proprio un ascensore. Auguriamoci che non ci porti in paradiso.